Buon portamento! Nel sonato da largo. Gliela faccio pagare, la faccio pagare a tutti. E così la finiranno per sempre. Questa non basta. Che vorresti fare, Bart? Aspetta, aspetta, non dirmelo. Se no mi vengono l'incubi, tipo quello in cui esco in pigiama durante il giorno. Infatti sei in pigiama. Voglio diventare pilota di macchine da corsa. Lo sai quanti ci rimettono le penne? Questo non lo fanno vedere sul pigiama. Vuol dire che si può mangiare? No, voglio dire che la siete impiegati con il cemento armato. E soltanto che allora è già pronto a prendere. Questo è troppo, stavolta l'ho proprio esagerato. Sono anni che non mangiamo altro che pastoncini di pesce di cartone, ma che non è il formaggio che potresti usare come colla. E adesso questo. Ma io ne ho abbastanza. E dico che è ora di andare di là e prenderci tutta la roba buona che continua a non sottrarci. Devi avere il cervello in giro. Non si può darci, ma almeno avrò la faccia piena. Allora ti accolgo. Io ci sto, io ci sto. Io pure. Stupendo. Ciao, Phineas. Che state facendo? È una sorpresa. Posso aiutarvi? Ci serve una vedetta. Ora ce l'avete? Qualcos'altro? Ciao, Phineas. Oh, ciao Isabella. Che cosa state facendo? I balli di ciardi e lavorare nella locale fabbrica di eventi felici. Perché forse tu ne conosci una bella, conosci alcune persone che lavorano bene insieme. Certo, sì, ci vediamo in vista. Allora andiamo a prenderci da mangiare. Allora andiamo a prenderci da mangiare.